E' stata una bellissima sorpresa perché è stato un momento bello, celebrativo di un percorso che dura quasi tre anni. E' un percorso fatto di grande sacrificio, di grande soddisfazione e soprattutto di supporto all'innovazione. Il merito non è solamente mio, ma di tutta la squadra che lavora con me, dal parte della marketing, ma soprattutto dell'innovazione tecnologica che hanno messo i nostri tecnici in tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi grazie, grazie per il premio ricevuto.